La scoperta, incredibile ma vero, è stata casuale. Un gruppo di ricercatori che stava compiendo studi su fossili nelle montagne di Laoying nel sud ovest della Cina si è trovato di fronte a questa imponente statua dal volto umano. Occhi, naso, bocca, tutto, un viso gigantesco scolpito nella roccia. Nessuno se n'era mai accorto, confessa questo abitante di un vicino villaggio. Sembra davvero un uomo, non sarebbe il primo. Alle Shan, proprio sul lato di una scogliera, sorge un Buddha gigante, alto 71 metri, risalente al 700 d.C. e perfettamente conservato, dal 1996 e patrimonio UNESCO. Le autorità locali, nel predisporre esami accurati sulla nuova scoperta, stanno già pensando di costruire una speciale piattaforma di osservazione per attirare i turisti.